La Biblioteca di Beto è una delle 25 biblioteche pubbliche più belle del mondo. Si trova nel Parco di Beto, in mezzo al verde, vicino al Museo dell'Eterno. Ci sono 10 mila biblioteca nella Biblioteca. Fino a quando sei modo stancho e poi puoi fare passeggiata nel parco. Ci sono 10 piani nella Biblioteca. E molti pannelli solari sul testo. Tutti i materiali da costruzione utilizzati sono 10 piani. La Biblioteca della Biblioteca Il interno nel parco non è grande. Il pesco si entra nella valle geotémica. Il pesco si entra nella bucina di sotto e il vapore calca. Ese costantemente. Si sente il forte dolore di sotto. Il paesaggio è speciale durante l'occupazione giapponese. Il paesaggio è speciale. Il paesaggio è speciale. Il paesaggio è speciale. Il paesaggio è speciale.